È stata isolata per la prima volta in Italia da un laboratorio di Reggio Calabria una nuova variante di Omicron chiamata XJ ed è equivalente ad XE. Validata dall'Istituto Superiore di Sanità, XJ è stata individuata da una struttura dell'azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria. La XJ sarebbe una ricombinazione delle sottovarianti di Omicron BA.1 e BA.2 e finora era nota solo per un numero limitato di casi registrati alla fine del marzo scorso in Finlandia. XJ è stata isolata dal laboratorio dell'azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria diretto da Maria Teresa Fiorillo in due casi di soggetti positivi al coronavirus e i risultati sono stati inviati all'Istituto Superiore di Sanità che li ha validati. Da quanto si è potuta prendere la sequenza isolata nei due casi rilevati di XJ, equivalente a XE, non fa seguito ad una mutazione del virus ma più precisamente ad una fusione di componenti genetiche di Omicron e non è stata depositata nelle banche dei dati internazionali. In particolare a carico di XJ è stata rilevata anche una maggiore contagiosità. Oltre a quelli riferiti alla Finlandia, altri due casi analogamente a quanto avvenuto al Reggio Calabria sono stati riscontrati in contemporanea anche in Thailandia.